Musica Sarà l'autopsia disposta dalla procura dell'Aquila a chiarire le cause del decesso di Felice e le donne. Il 62enne originario e residente ad Ateleta dove lavorava presso l'ufficio Anagrafe è morto pochi giorni dopo un intervento chirurgico eseguito presso l'ospedale San Salvatore del capoluogo di Regione. In base ad una prima ricostruzione il 62enne lottava con alcune patologie si era sottoposto ad un intervento di laparoscopia al fegato lo scorso lunedì. Tuttavia nel corso dell'operazione i medici avrebbero deciso di procedere con la chirurgia aperta probabilmente a causa di complicazioni. Nonostante l'intervento si sia concluso con successo le condizioni di salute di Felice si sarebbero aggravate culminando con il decesso. I familiari del 62enne hanno chiesto che venga fatta luce su quanto accaduto a Felice presentando un esposto in procura. Il magistrato ha aperto quindi un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Le donne era persona molto attiva e conosciuta nella comunità locale. Capogruppo dell'Associazione Nazionale Alpini e componente attivo della protezione civile era sempre in prima linea per il bene comune. Stimato e ben voluto da tutti, era noto per il suo spirito di servizio sempre pronto ad aiutare le persone in difficoltà. La notizia della sua scomparsa ha gettato la comunità nello sconforto. L'amministrazione comunale di Ateleta con il sindaco Marco Passalacqua ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Felice Le Donne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti